Mercoledì 5 dicembre alle ore 18 presso l'Aula Magna della Scuola di Amicis, la Costituente per Battipaglia organizzerà un incontro pubblico dove saranno trattati numerosi temi legati al territorio, a cominciare da Ambiente e PUC. L'incontro, spiegano gli organizzatori, sarà solo il primo di una lunga serie. L'obiettivo è incontrare i cittadini che al di là delle singole appartenenze ideologiche avvertono l'urgenza e la necessità di mettersi insieme in uno sforzo corale. Grazie a tutti.